Se avessi una figlia come Greta, io non ho mai picchiato i miei figli, ma a Greta un paio di ceffoni glieli darei per rimandarla a scuola, perché lei non va a scuola e chi non va a scuola non può arrogarsi il diritto di fare la professoressina. Eppure tutti si appellano al fatto che Greta abbia dato una spinta propulsiva al tema dell'ambiente e dell'ecologia perché nessuno se ne occupa. A questi cosa risponde? Come nessuno se ne occupa?